Allora, diciamo qualche cosa su questo. Niente di particolare, adesso voglio dire, non Armando è particolarmente attivo, però non è l'unico concorso che noi non abbiamo concluso, anche perché è come per un'azienda, assumere altre persone significa prendere una parte del budget e utilizzarlo per quel fine piuttosto che per un altro. Noi abbiamo bisogno degli istruttori amministrativi, perché è quella fascia dalla quale poi vengono fuori man mano i dirigenti del comune, con altri concorsi evidentemente, ma gli istruttori amministrativi sono quelli per professionalità, molti sono laureati, sono anche molto bravi, però è chiaro che la procedura dell'assunzione dipende dal prossimo bilancio e da come decideremo di impiegare quel micro budget che abbiamo per fare delle assunzioni. Potrebbero essere utilizzate, come io mi auguro, per assumere il residuo di quella graduatoria prima che scada o se fosse necessario un'altra figura, perché noi per esempio abbiamo bisogno anche di geometri, di ingegneri. Il comune di Bari è una macchina complicatissima. Non Armando ovviamente è il paladino degli istruttori amministrativi, che però sono solo una piccola parte degli impiegati, sono pochi dipende dai punti di vista, 13 assunzioni di questi tempi nella pubblica amministrazione sono grasso che cola, non sono una piccola procedura di assunzione. Mi spiegavo che non sono delle cifre… Non sto dicendo che non le faremo, dico però che adesso non abbiamo infranto il patto di stabilità, ne avremmo risposto quante volte? 10 mila forse a questa domanda, ma lo faccio per la 10 mila e una, adesso bisogna approvare il bilancio entro il 31 maggio… Io non è che vuoi fare l'accomodazione per noi non Armando, però… Ma voglio dire, insomma io vorrei farvi comprendere… Perché lui è una persona… Vorrei farvi comprendere che ci sono… Tu lei lo conosce più di me forse, è una persona assolutamente corretta, lui mi chiama a casa per dire per esempio che c'è stata una disposizione dello Stato, del Ministero, a proposito, anzi no, dell'Eni che poi è stata accolta dallo Stato, per quanto riguarda per esempio le trivelazioni che si vanno a fare nella costa adriatica, e lui spiegava che c'è questa perizia dell'Eni che spiegava come se si facessero queste trivelazioni la costa adriatica perderebbe, non si capisce quanti metri di mare, allora lui diceva quando tu fai le trasmissioni sulla storia dell'energia, sui poli emoselezioni e compagnia bella, riferisci anche… Approfondiamo prima la questione e poi eventualmente la riferiamo, ora io voglio dire, non Armando si è interessato di un nipote che deve essere ancora assunto, si è interessato di questa cosa, ovviamente noi gli abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, credo che adesso anche questi 12 o 13 verranno anche assunti, ma non vorrei che dall'altra parte della telecamera immaginassero che il Sindaco agisce solo se c'è un nonno che telefona, perché non è così, io mi occupo di tutte le questioni che riguardano il Comune di Bari, di tutte le assunzioni, nonno Armando ha tutto il mio rispetto e tutto il mio affetto, ma per me le persone sono sempre tutte uguali. Va bene, comunque fatto sta che sono cinque anni che stiamo parlando di questa cosa… Ma questo lo dico perché c'è tanta gente dall'altra parte della telecamera che non ha lavoro e che potrebbe pensare che sia un giochino tra noi quello di risolvere queste questione. Perchè chiedere alcune cose, c'è una telefonata? Pronto? Ah, la pubblicità, andiamo alla pubblicità. Riprendiamo la trasmissione, prima di entrare nella trasmissione di servizio, le telefonate, eccetera, però qualche riflessione, perché siamo anche noi cittadini che vivono questa città. Come magistrato, questa città, questa regione, questa provincia, perché poi la provincia, città, ormai è da parecchio nella comunicazione nazionale e internazionale, per i fatti che succedono, le varie procure, Bari, Trani, la storia di Patrizia Daldari, la storia adesso di Trani, della concussione ipotizzata su Berlusconi, eccetera, e che fa parlare tutta l'Italia, come se ci fosse una manovra da parte della magistratura pugliese per andare, per fortuna oggi, per fortuna, per sfortuna di chi invece l'ha subita, c'è stato il fatto di Frisullo, per cui andiamo a pareggiare. Ma tutto questo glamour, tutta questa situazione che riguarda la magistratura pugliese e i fatti che poi hanno questi riflessi nazionali. A te, come magistrato, come ti fanno sentire? Io, come posso dire, proprio perché sono magistrato, mi permetto di dire che senza conoscere nel dettaglio proprio il fascicolo… Magistrato e non come Presidente del PD, dico proprio perché non conosco nel dettaglio il fascicolo del pubblico ministero, emettere giudizi o fare ragionamenti, devo dire, lascerebbe il tempo che trova. Non ho mai pensato all'idea che dei magistrati possano costruire dei complotti o, peggio ancora, possono agire addirittura in compensazione. Posso solo dire che è un mestiere difficile, è un mestiere dove si rischia di dover spesso agire, parlo delle indagini del pubblico ministero, agire in momenti complessi, elettorali, politici, in mezzo di attenzione, con una capacità anche da parte degli attori di reagire violentemente, quando un Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, un Sindaco si arrabbiano perché ritengono di aver subito un'ingiustizia, non è facile svolgere il ruolo dell'investigatore. D'altra parte ci sono delle persone che soffrono perché qualche giorno fa io ho parlato al telefono con Bertolasso, lo ha detto pubblicamente ma lo ha ripetuto anche a me, sostanzialmente mi ha detto, mi chiede, in situazioni come queste, piuttosto che rischiare di perdere la faccia o l'onore, uno preferirebbe morire e io lo capisco perché ci sono alcune persone per bene che di fronte all'idea di perdere l'onorabilità probabilmente preferirebbero danni peggiori. Ecco, qui ci vuole un'abilità e l'umanità del magistrato nel capire come muoversi e come minimizzare il danno, faccio un'ipotesi, io ricordo anni fa per la missione Arcobaleno noi dovevamo trarre in arresto diversi funzionali della protezione civile e io sapevo che a casa di queste persone c'erano dei bambini e normalmente queste operazioni si fanno la mattina presto con i bambini che sono ancora in casa, insomma studiamo tutto un sistema per fare questa operazione quando queste persone erano già arrivate in ufficio per evitare che questa operazione avvenisse davanti agli occhi dei bambini, sto dicendo ovviamente una delle particolari cautele. Io credo che sia giunto il momento, proprio in generale, che la Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero si rendano conto che la esecuzione di provvedimenti anche assolutamente legittimi, giusti e necessari può sempre essere fatta con un piccolo ulteriore gesto di umanità che alle volte rafforza il ruolo dell'autorità e dell'autorità giudiziaria in modo particolare. Tu dicesti una cosa molto bella una volta quando ancora non eri sindaco e io ti intervistai per un giornale che dirigevo. Quando dicesti, Michi, vedi, questo mestiere è un mestiere difficile, pericoloso e delicato, quello del Pubblico Ministero, perché dà la possibilità a un giovane di 25 anni di camminare 10 centimetri sopra la terra e di decidere le sorti di una persona. È una cosa difficile, delicata, dove c'è bisogno non solo di sapere le leggi, di sapere tutto quel che si deve o non si deve fare, ma che ha bisogno anche di un po' di psicologia, spiegarvi, perché non si può ergersi padrone della legge al di sopra comunque di tutta una serie di contesti della situazione. Uno. E questa è una cosa.